La Presidente della Regione, Deborah Serachiani, ha incontrato a Tolmezzo il Presidente di Burgo Group, Girolamo Marchi, l'amministratore delegato Paolo Mattei, il direttore dello stabilimento Furio Azzopardo. Alla presenza del Sindaco di Tolmezzo, Dario Zearo, del Consigliere regionale Enzo Marsiglio e del Presidente di Cosint, Paolo Cucchiaro, la Presidente e i vertici della Burgo hanno parlato a lungo dell'azienda di quanto è possibile mettere sul tappeto, da parte della proprietà e delle istituzioni, per migliorare le condizioni della presenza della cartiera sul territorio e la sua competitività. Abbiamo voluto fare il punto sulla situazione dello stabilimento, è molto importante mantenere il livello dell'occupazione ed è importante continuare a produrre a Tolmezzo. Abbiamo, secondo me, gettato le basi per un dialogo importante e costruttivo che mi fa ben sperare per il futuro e che credo comporterà anche, e questa è una volontà di tutti, un consolidamento dello stabilimento. Dopo questo confronto, ha concluso la Presidente, dobbiamo comprendere in quale modo possiamo aumentare la sostenibilità anche economica della produzione di Burgo a Tolmezzo in un'ottica di razionalizzazione e di crescita.